Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti morbidi al mandarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, uovo, zucchero, burro, scorza e succo di mandarino, lievito per dolci vanigliato, zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di mandarino. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, il succo di mandarino, l'uovo e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso formeremo i biscotti. prendere un pezzetto d'impasto, formare una pallina e passarla prima nello zucchero semolato e successivamente nello zucchero a velo. Posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto dell'impasto. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 10-12 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti morbidi al mandarino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!